Salve, benvenuti all'oroscopo del giorno. Incominciamo subito, caprimo il segno di oggi che è Arite. Avete a lungo cercato delle motivazioni per giustificare alcuni vostri comportamenti. Se però sentite questa esigenza, significa che qualcosa in effetti non vi fa stare bene. Cercate di capire se avete dei rimorsi. Toro, ogni volta che prenderete delle decisioni in questa giornata, vi verrà da chiedervi se dobbiate o meno rivolgervi a delle persone che vi possono sconsigliare. Evidentemente siete in una fase di insicurezza. Gemelli, oggi potreste affrontare un dilemma che vi ha sempre condizionato fino ad ora. Se riuscirete a superarlo da soli, autoconvincendovi che siete in grado di resistere, allora sarete guariti dalla vostra condizione. Cancro cercate di essere più sciolti nelle relazioni personali perché avrete una grande occasione per rivelare finalmente i vostri sentimenti reali. Le persone che vi saranno di fronte saranno pronti ad accogliere qualsiasi verdetto. Leone, cercate di essere più lungimiranti, specie per alcuni progetti lavorativi. Se state giocando intorno ad una questione senza affrontarla, sarà bene farsi coraggio e mettersi in gioco. In caso contrario, lasciate perdere. Vergine, la giornata odierna inizierà con grande entusiasmo da parte vostra, poiché state raccogliendo molti successi, sia dal punto di vista personale che professionale. Cercate di sfruttare questo momento di positività aumentando l'autostima. Bilancia Cercate di organizzare nel modo migliore il vostro tempo perché in questa giornata avrete molte cose da fare e anche voglia di farle. Potreste prediligere ciò che vi fa sentire meglio. Scorpione Talvolta ci possono essere degli ostacoli da superare, ma c'è modo e modo di farlo. Cercate di non prediligere quello che prevede l'eliminazione degli avversari in modo scorretto. La vostra voglia di arrivare non dovrebbe superare certi limiti. Sagittario Sagittario Restate ancorati al vostro pregiudizio in questa giornata perché vi salverà da alcune situazioni imbarazzanti. Non buttatevi nella mischia solo per il gusto di farne parte. In alcune condizioni potrebbe essere deleterio per la vostra immagine. Capricorno Cercate di portare a compimento le vostre ambizioni perché in questa giornata ne avrete l'occasione. Non fermatevi di fronte ad un dubbio perché è perfettamente normale averne di questi tempi. Acquario Cercate di prendere tutto quello che in questa giornata avrà da darvi senza lamenti e senza puntualizzazioni. Invece di pensare al peggio dovreste essere grati di quando vi abbia riservato il destino. Pesci Andate dritti verso la mita in questa giornata perché non tornerà molto presto un'occasione attettando valida. Non ralentate la vostra corsa per agevolare qualcuno a cui volete bene. Questo capirà quali siano le priorità. Ragazzi Per oggi l'oroscopo finisce qui. Io vi ricordo di seguirmi sui miei social iniziando da Facebook dove mi trovate sulla mia pagina che si chiama Peppe Channel personaggio pubblico. Poi su TikTok ho due account il primo è Peppe Channel trattino sotto real e il secondo è Peppe Channel trattino sotto gold e infine su Twitch come Peppe Channel trattino sotto real. Ok? Un bacio. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao 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 ciao. Grazie a tutti.